Ciao a tutti i miei Slime, qui Art, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di Lil Durk. Uno degli artisti che più preferisco, ma ormai questo già lo sapete, ma credo anche uno di quelli che nel 2020 ha fatto più parlare di sé. Arriveremo ovviamente anche ad analizzare questo, ma partiremo prima di tutto dalla sua vita, per poi analizzare l'inizio carriera e via dicendo. Come sempre, prima di cominciare, un mi piace e un commento se questa serie vi sta piacendo, se avete qualche nome di cui vi piacerebbe sentirmi parlare, scrivetelo liberamente nei commenti. E ci tengo a fare una piccola premessa. Allora, io lo so che si pronuncia Lil Durk e Durkio, ma se nel corso del video ogni tanto lo chiamerò Lil Dark è perché nella fretta di parlare nemmeno me ne accorgerò. Ok, direi che adesso possiamo cominciare. Dirk Derrick Banks è nato il 19 ottobre 1992 a Chicago. Il padre viene incarcerato quando aveva appena 7 anni, di conseguenza passa gran parte della sua infanzia barra adolescenza in casa, cercando di occuparsi di tutte le faccende e di prendersi cura della propria famiglia. Inizia a farsi conoscere su piattaforme come YouTube e MySpace, che soprattutto ai tempi andava molto di moda. Aveva comunque una piccola fanbase, ogni giorno diventava sempre più grande e questo ovviamente non poteva fare altro che spronare il piccolo Durkio a credere ancor di più in quel che faceva. A 17 anni si diploma e join agli Black Dice Paul, che nel caso in cui non conosceste chi sono è una delle gang più criminali e temute a Chicago. Con la sua entrata nella gang iniziano anche ad esserci primi problemi legali. Per esempio nel 2011 viene arrestato per possesso d'arma da fuoco e rimane in carcere per tre mesi. Durante la sua permanenza in prigione nasce anche il suo primo figlio, Angelo, e questo segna un punto di svolta nella carriera ma in generale nella vita del rapper. Perché il fatto che il suo primo figlio fosse nato e lui non fosse in ospedale o comunque non potesse subito conoscerlo, l'ha spronato ad essere una persona migliore e magari anche cercare di evitare il più possibile di stare in mezzo a casini. Già in questi anni incomincia a rilasciare i primi singoli e i primi mixtape, caricandoli su Death Peef, che ragazzi è un sito storico, se lo conoscete siete veri OG, ma soprattutto era una piattaforma che ai tempi in America andava molto bene, specialmente per i mixtape. Tra questi uno dei più importanti è sicuramente Life Ain't No Joke, uscito nel 2012 e conta ad oggi più di 200.000 download. Nel 2013 trasforma il suo collettivo OTF, che è un acronimo che sta per Only The Family, anche in una realtà discografica, appoggiandosi su Death Jam. Segue così la pubblicazione di Signed to the Streets, un mixtape che possiamo considerare uno dei suoi primi lavori importanti, uscito ad ottobre esclusivamente su Death Peef. Al suo interno troviamo Lil Rees, noto affiliato della Glow Gang, ma anche diverse produzioni di Young Chop. Pensate che da Rolling Stones in quell'anno questo mixtape è stato nominato come ottavo miglior mixtape. Nel 2014 arriva il sequel, Signed to the Streets 2, e durante quest'anno viene anche nominato da XXL nella Freshman Class. Purtroppo però c'è anche una notizia un po' brutta per Durkio, perché perde suo cugino OTF Nunu, meglio conosciuto come Nuski. Una cosa che molti non sanno riguardo questi anni è che Lil Durk e Chief Keef non erano così tanto in buoni rapporti. Non è mai esploso un beef vero e proprio accanito con magari this track, ma allo stesso tempo i due si lanciavano qualche frecciatina qua e là. Per fortuna ad oggi la cosa è finita. Il 25 marzo 2015 annuncia il titolo del suo primo album ufficiale, Remember My Name, fissando l'uscita per il 12 maggio. Tuttavia il 20 aprile annuncia che l'album avrebbe avuto un po' di ritardo e che sarebbe uscito il 2 giugno, data in cui effettivamente uscirà. L'album conquista il quattordicesimo posto della classifica Billboard 200 vendendo 28.000 copie. Ovviamente parlo della prima settimana. È composto da 12 tracce, contando anche le due della Deluxe. Tre fit su tutti spicca il nome di Logic, ma non è l'unico perché per esempio, per quanto riguarda le produzioni, troviamo anche Metro Boomin. Può considerarsi tranquillamente il suo primo vero successo, perché fino ad allora aveva dimostrato grandi cose, ma questo album lo consacra come una delle novità più interessanti dei tempi. Più tardi, lo stesso anno, esce 300 Days, 300 Nights, un altro mixtape, al cui interno troviamo My Beyonce featuring Day Love, che ai tempi era una delle hit più famosi del rapper, e infatti il 5 maggio 2017 verrà certificata disco d'oro. Tuttavia quest'album non è così importante, ma ve l'ho voluto dire perché è il primo progetto con cui io personalmente l'ho scoperto, e nel caso in cui aveste già ascoltato gran parte della sua discografia e voleste nuova roba da ascoltare, vi consiglio di recuperare questo. Nel 2016 arriva Lil Dark 2X o Lil Dark 2 Times o Lil Dark Lil Dark, scusate ma non ho capito per cosa sta quel 2X. Il suo secondo album studio è, al debutto, conquista la posizione numero 29, quindi a tutti gli effetti potrebbe considerarsi, o probabilmente lo è almeno dal punto di vista dei numeri, un flop, ma in realtà vi assicuro che anche in questo caso è un album godibile. Abbiamo 13 brani, contando anche quelli della Deluxe, e tra i feat spiccano i nomi di Future, Young Tag, Tidal Assign, ma anche altri. Specialmente le tracce con Tagga e Future sono devastanti, quindi vi consiglio di recuperarle, comunque trovate in descrizione una playlist di Dirkio fatta da me stesso. Durante quest'anno esce anche un altro lavoro, They Forgot un mixtape, questo ovviamente a confermare l'attività del rapper. E pensate che nel 2017 non si fermerà, ma proprio per un cazzo, perché durante questo anno escono 4 mixtape. Il primo di questi è Love Song For The Streets, uscito a febbraio, vedremo che sarà il primo di una nuova saga nella carriera del rapper di Chicago. Ad agosto arriva Soup of Vultures, un joint tape con Lil Reese, i due avevano già collaborato svariate volte, eccoli finalmente in un album. A ottobre esce Sign To The Streets 2.5, ovvero un piccolo tape di 9 tracce in attesa del terzo volume di Sign To The Streets. E infine a dicembre arriva Blood Us, un joint tape di Dirkio e Tee Grizzly, probabilmente tra quelli usciti in quell'anno è il più importante. Nel 2018 si dà una calmata, si fa per dire, esce il suo dodicesimo mixtape Just Cause You All Waited. In questo periodo però l'avventura di Dirkio con Death Jam arriva agli sgoccioli e successivamente arriverà a un vero e proprio divorzio. Ha spiegato anche Lil Durk in un'intervista con Adam, quello di No Jumper, il pelato coi tatuaggi in faccia e dappertutto per intenderci, che la label iniziava a spingere, in un certo senso indirizzare, o almeno volerlo fare, Dirkio verso un sound un po' più pop. E a lui questa cosa non andava proprio bene, perché lui voleva anche fare canzoni del genere, ma avere pieno controllo sulla sua musica, senza farsi condizionare. Tuttavia entrambe le parti ad oggi sono rimaste in buoni rapporti e non appena Dirkio esce dall'etichetta carica il suo mixtape anche sui servizi di streaming, facendolo così diventare il primo suo mixtape a essere caricato su siti come Spotify e quant'altro. Stabilisce un altro record perché è anche il primo mixtape che poi finisce nella classifica, Hot 200, più precisamente al posto numero 57. A luglio comincia una nuova avventura, firma con Alamo Records, un braccio di Interscope Records, e a novembre esce il suo terzo album studio, Signed to the Streets 3. Album molto corposo, 20 tracce, tanti feat, Future, Lil Baby, Gunna e altri, e io personalmente ho l'impressione che con questo album comincia a avvenire l'ascesa di Lil Durk a livello mainstream. Nel 2019 arriva Love Song for the Streets 2, sequel di quello uscito nel 2017 e quarto album studio del rapper. Debutta al posto numero 4 nella classifica Billboard vendendo 44.000 copie first week, stabilendo così un record per Dirkio, il suo primo progetto ad entrare nella top 5 della chart. Abbiamo un totale di 16 brani e anche in questo caso i feat non mancano affatto, Nicki Minaj, 21 Savage, Mick Meal e tanti altri. Ah, una cosa importante è che nel 2018 pian piano cominciano ad uscire anche i suoi lavori con l'etichetta, quindi con tutto il suo roster, OTF. Vi accenno solo questa cosa perché se dovessimo parlare anche di quei progetti il video non finirebbe più, ve lo posso assicurare. Ma Lil Durk sembra non aver la minima idea di fermarsi, e anzi nel 2020 ci darà dentro ancora di più e arriveremo all'apice della sua carriera, ovviamente fino ad ora. L'8 maggio esce Just Cause All You Waited 2, debutta al posto numero 5 della classifica Billboard vendendo 57.000 copie. Viene rilasciata a giugno una deluxe edition che consentirà all'album di tornare alla posizione numero 2. 22 tracce totali che vanno a completare quello che secondo me è uno dei migliori progetti usciti l'anno scorso. Il 14 agosto esce Love Now Cry Later, primo singolo di Drake estratto da Certified Lover Boy, che vanta come featuring proprio Durkyo. Stabilisce per lui un nuovo record, il suo più alto piazzamento nella classifica Hot 100, che è quella delle canzoni di Billboard, più precisamente il secondo posto. Durante questo periodo inizia anche un beef con 6ix9ine che continua ad oggi, ne ho già parlato in un video, ve lo lascio in descrizione nel caso in cui non lo aveste visto, e in quei giorni annuncia anche il titolo del suo prossimo album, The Voice. Già da anni Durkyo in vari progetti o comunque frasi, canzoni, faceva riferimento a se stesso come The Voice of the Streets, La Voce delle Strade, e questo spiega il titolo dell'album. In più l'intero progetto è stato dedicato, e a tutti gli effetti un tributo, a King Von. Alla fine esce il 24 dicembre e tuttora è il suo progetto solista di più successo. Io vi dico onestamente il mio pensiero, non mi è piaciuto così tanto, non perché non sia un bell'album, ma perché a mio avviso è un po' monotono, un po' incentrato su un unico sound. Avrei preferito tracce un po' più sullo stile di steel trapping, con King Von, che poi può definirsi la hit del disco, che andassero un po' a staccare dal mood dell'intero progetto. E una news di giornate, non dico di giornata perché è uscita un po' un paio di settimane fa, forse una, lui e Lil Baby sembrano avere un joint album insieme, The Voice for the Hero. Vi lascio immaginare cosa cazzo possono combinare questi due uomini insieme. Facciamo un piccolo riassunto della sua carriera. Inizia circa nel 2011, con le prime canzoni, e diciamo che da 2011 al 2014 è underground. Nel 2015 ha il primo boom, però poi nel 2016-17, secondo me anche metà 2018, ha un momento in cui, non dico che perde hype e in parte succede, ma questo boom non cresce, diciamo che rimane su quel piano. A metà 2018, piano piano, le cose cominciano a cambiare, per finire con un 2020 di cui è stato pieno protagonista. Uno dei più grandi riferimenti se si parla di drill al giorno di oggi. Questo era Lil Durk, la sua storia è quello che io personalmente penso di lui. Voi cosa ne pensate? È un artista che vi piace? Con che album l'avete scoperto? O se avete un progetto, una canzone che vi piace particolarmente della vostra preferita? Fatemelo sapere qui sotto, nei commenti. Se il video vi è piaciuto ovviamente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non foste iscritti al canale, iscrivetevi. Se lo siete già, attivate la campanellina, ormai queste cose le sapete a memoria. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo Slat.